Maltrattamenti in classe, denunciata supplente delle medie, iscrizioni a scuola, continua la crescita dei licei, Pesaro lancia il suo city brand 2024, Agabicce riapre la guardia medica per il periodo estivo. Sport sul sipario alla stagione degli Angels. Buonasera a tutti voi amici e amici di Rossini TV, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Rossini News, il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 8 aprile 2022 apriamo occupandoci di una notizia che vi abbiamo anche segnalato questa mattina nella nostra rassegna stampa, una notizia riportata dal resto del Carlino e che segnala come alcune famiglie di Pesaro abbiano denunciato episodi di botte e maltrattamenti da parte di una professoressa supplente in una delle scuole medie della città. Indagano i carabinieri per segnalazioni di schiaffi, spinte e calci che diversi ragazzi hanno segnalato ai genitori portandoli a sporgere denuncia. I fatti si sarebbero svolti nell'ultimo giorno di servizio di una sola settimana di supplenza. Nelle prossime edizioni del Tg vi forniremo ulteriori sviluppi di queste indagini. E restiamo in ambito scolastico ma cambiamo radicalmente argomento. Si sono infatti completate le iscrizioni all'anno didattico 2022-2023 che si auspica sia il primo vero anno spogliato dalle tante dinamiche della pandemia come quella della didattica a distanza. Nel prossimo servizio analizziamo i numeri e la crescita di alcuni istituti superiori pesaresi. Ad un paio di mesi dalla conclusione dell'anno scolastico gli istituti pesaresi fanno già i conti con l'annata 2022-2023. Iscrizioni completate e popolazione scolastica inquadrata in quello che si auspica sia il primo vero anno post pandemia, ovvero senza strascichi di quarantene o didattica a distanza. Nelle superiori pesaresi allora si analizzano i numeri di una demografia scolastica che conferma il gradimento dei licei, che in gran parte dei casi continuano a crescere e talvolta anche con impennati inattese. Devo dire che è stato un boom nel senso che veramente abbiamo avuto circa 240 iscritti quindi per noi ecco proprio la testimonianza di una scuola che opera bene, chiaramente ce la mette tutta. Ecco questo è il messaggio che vogliamo mandare, il liceo artistico Mengaroni ce la mette tutta, il corpo docente ce la mette tutta, ma tutto il personale scolastico. Il lavorare anche con il territorio, il sensibilizzarci, il far capire anche alla città ma anche fuori dalla nostra città che cosa questo liceo fa in maniera molto semplice, umile, probabilmente ecco ci ha fatto apprezzare e quindi non ci aspettavamo questo boom di iscrizioni che veramente rispetto agli anni precedenti è stato eccezionale, quindi 240 iscritti per noi quindi sono nove prime future. E poi ci sono scuole che paradossalmente crescono con parecchie preoccupazioni. Devo dire purtroppo sì, dico purtroppo perché da una parte sono assolutamente contento che sia una scuola scelta dal territorio, dall'altra sono un attimo preoccupato perché abbiamo carenza di aule, carenza di posti da dedicare alla didattica, quindi adesso ci interfacciamo con la provincia nei prossimi giorni e troveremo le soluzioni, speriamo. Va da sé che al liceo Marconi la novità delle aule container allestite in tempo di pandemia sono destinate a diventare una struttura permanente. Beh, quelle non solo rischiano di diventare permanente, rischiano di diventare il doppio perché sappiamo per certo che esistono altri container nella provincia e che forse dovranno migrare verso questi lidi. Non crescono solo i licei ma anche determinati istituti tecnici e economici come il Bravante e Genga. Abbiamo avuto un aumento rispetto ai ragazzi dell'anno precedente, comunque escono 138 ragazzi ne entrano 190, siamo riusciti a finalmente istituire una terza sezione del tecnologico e questo ci rende molto orgogliosi. Tra l'altro una scuola a cui viene richiesto continuamente l'elenco di diplomati sia per la parte tecnologica che per la parte economica e a volte non siamo in grado di produrre questi elenchi di diplomati perché comunque non abbiamo una platea grandissima di fruitori della nostra azione educativa, della nostra scuola. Quindi comunque la scelta di un tecnico in questo momento offre concrete possibilità di lavoro e forse questo le famiglie lo stanno comprendendo e in parallelo offre anche una buona preparazione, una solida preparazione che consente ai ragazzi poi di affrontare anche la carriera universitaria a seconda di quelle che saranno poi le loro inclinazioni e le loro scelte. Iscrizioni in ripresa anche al liceo Mamiani. Noi l'anno scorso abbiamo avuto una piccola flessione, adesso il numero di iscrizioni è ripreso a salire, sicuramente abbiamo le stesse classi dello scorso anno, speriamo di avere anche di più. Anche il Mamiani convive col problema spazi ma spera che sia l'anno buono per il completamento della riqualificazione del Morselli. Gli spazi utilizzando lo spazio della sede del mare le cose sono andate abbastanza bene, il problema esiste sempre perché al campus ormai tutti gli spazi sono utilizzati come aule di fatto e quindi viene un po' a mancare a volte l'aspetto laboratoriale. ci stiamo adattati in questi anni alla situazione, aspettiamo anche con ansia che ci venga restituito il Morselli, la provincia ci sta lavorando, ci sono buone prospettive e quindi con quello dobbiamo risolvere molti dei nostri problemi. Dal trionfo si passa ora al marketing, il caso di Pesaro Capitale della Cultura 2024 che ora ha il suo city brand Pesaro 2024 che lo accompagnerà nei prossimi tre anni. Il Wii Pesaro con chiave di violino utilizzato dal 2017 per Pesaro Città della Musica Unesco ora si declina in una P analoga ma con gli effetti cromatici del nostro mare e delle nostre colline. E' questo il logo o per meglio dire il city brand di Pesaro 2024 che da oggi diventa l'elemento identitario di promozione e marketing per il triennio che ci accompagna al 2024 di Pesaro Capitale della Cultura. Un brand che fonde la preesistente Pierossa con logo della recente candidatura, un simbolo, un elemento di identità che il comune punta a moltiplicare sulla città e sulla provincia. Oggi sindaco e vicesindaco Matteo Ricci e Daniele Vimini lo hanno svelato a Palazzo Mazzolari Mosca alla presenza di Jessica Sinigaglia, creatrice del logo. Insomma dalla vittoria si passa alla programmazione, dalla programmazione si passa alla comunicazione che parte tra l'altro con una tempistica non casuale, da domani a Procida Capitale della Cultura 2022. Siamo partiti da quello che era il logo ufficiale di candidatura per una fusione con quello che è il city brand che ormai dal 2015 Pesaro ha consolidato e quindi l'immagine che vediamo è una sintesi credo perfetta per poterci permettere di portare in giro per l'Italia e per il mondo l'immagine di Pesaro Capitale Italiana della Cultura ma dentro una comunicazione omogenea con quello che è la storia del nostro city brand. Altrettanto avviene appunto in questi giorni, domani sarà la prima uscita ufficiale perché inizia l'anno di Procida, l'anno di Procida Capitale Italiana 2022, ci sarà il sindaco Ricci a rappresentare in questa cerimonia assieme al presidente Mattarella, anche la stella di Pesaro è dominata per il 2024 e questo avverrà ovviamente in tante altre cerimonie, compreso la BIT di Milano, la Borsa del Turismo importantissima dove ci sarà domenica pomeriggio un panel per presentare appunto la Capitale 2024 e dove appunto si inizierà a fare conoscere il logo che poi avrà una sua vita attraverso la registrazione naturalmente come marchio registrato ma anche una policy che ovviamente lo renderà fruibile per i nostri partner diventerà un elemento anche di ricerca sponsor che è uno degli obiettivi ovviamente che abbiamo da qui a 2024 ma soprattutto come è accaduto con il marchio UNESCO sposato e adottato dai cittadini, dai negozianti, commercianti eccetera diventerà anche un luogo identitario per i nostri concittadini per fare in modo che da qui al 2024 tante più persone, lo speriamo tutte, si sentiranno coinvolte in questa sfida nel rappresentare la città anche proprio da cittadini ospitanti diciamo. Il consiglio comunale di Pesero tornerà in presenza nella sala consigliare del municipio è stato infatti completato il restyling tecnologico della sala tra l'altro adornata la settimana scorsa dal politico per Pesero donato dall'artista Oscar Piattella dunque da lunedì 11 aprile il consiglio tornerà in presenza dopo tanti mesi trascorsi da remoto e altrettanti di trasloco temporaneo nella sala del consiglio provinciale. E torniamo a parlare di guardie mediche dopo tante chiusure di presidi territoriali ecco finalmente le prime riaperture. La regione infatti dà l'ok al ripristino della guardia medica per quei che riguarda Gabicce Mare almeno per i mesi di luglio e di agosto. Dall'autunno scorso Gabicce Mare al pari di tanti altri comuni della provincia è stato spogliato del presidio di guardia medica territoriale a causa del trasversale depauperamento dell'organico di medici. Da ottobre la regione ha così convogliato ogni servizio sulla guardia medica di Pesero altrettanto impoverita di sanitari. Dopo mesi di battaglie per i ripristini Gabicce ottiene un primo risultato in vista dell'estate. Chiaro che nel breve periodo ci siamo subito preoccupati di contattare l'assessore Saltamartini al fine di sollecitarlo con delle soluzioni perché abbiamo proposto su sua sollecitazione delle soluzioni appunto quello che ci stava particolarmente a cuore perché è un servizio ormai che va avanti da tantissimi anni quello di dotare la città di un presidio di guardia medica estiva oltre che la presenza di un'ambulanza sempre durante il periodo invernale. Ho sollecitato anche il consigliere Biancani affinché presentasse una interrogazione in consiglio regionale dovrebbero garantirci per i mesi di luglio e agosto sia la guardia medica estiva che il servizio di ambulanza. È chiaro che per una città come Gabicce, che vive di turismo, tra i vari servizi che offriamo ai turisti c'è anche quello di avere anche una sicurezza sul piano sanitario. Per Andrea Biancani, consigliere regionale che ha caldeggiato il ripristino, è un primo risultato ma non ci si accontenta. La risposta che mi è stata data l'altro giorno in aula è quella che comunque il servizio verrà garantito per i mesi di luglio e agosto. Noi avevamo chiesto dal mese di giugno, faremo di tutto per riuscire ad anticipare ma già avere la garanzia per il mese di luglio e agosto mi sembra una buona risposta e anche una garanzia in più per tutte quelle persone che decidono di venire a passare le ferie estive nel nostro territorio. Pascuzzi invece guarda già oltre l'estate invitando la politica a studiare proposte alternative. Crediamo, ma non sono io solo a crederlo, che la presenza di un presidio sanitario nel territorio sia fondamentale. Tant'è che poi andremo avanti anche sulle proposte perché ci piacerebbe portare anche ad altri tipi di accordi come ha fatto ad esempio con i comuni di confine, con l'Emilia Romagna, alcuni comuni d'entroterra hanno sottoscritto delle convenzioni fra Regione Marche e Regione Emilia Romagna che questa l'abbiamo proposta, l'andremo a valutare assieme all'assessore Sartamaltini sulla possibilità di poter attivare questa convenzione che ci permetterebbe anche di risolvere tutta una serie di problematiche legate a una terra di confine perché di là del tavolo, del fiume c'è un punto di primo soccorso e quindi risolverebbe definitivamente tutto il problema dell'ambulanza anche durante il periodo invernale perché c'è sempre stato questo problema che quando un cittadino chiama il servizio di ambulanza spesso non arriva l'ambulanza più vicina che per noi sarebbe quella che è presente presso il punto di primo soccorso a Cattolica. Che arriva solo se c'è un codice importante, quindi un codice rosso, altrimenti bisogna aspettare che arrivi o da Pesaro o da Montecchio con tempi più lunghi. Giovedì 14 di aprile riprenderà il servizio che collegherà in autobus la città di Urbino a Roma. Ad annunciarlo questa mattina in municipio Urbino sono stati l'azienda di trasporto AMI con il presidente Lara Ottaviani e il sindaco Maurizio Gambini. Il collegamento prevede due coppie di corse dal lunedì al sabato e una coppia di corse la domenica che collegheranno la città Ducale a Fabriano passando per Gubbio. I passeggeri troveranno le coincidenze con i treni dalla stazione di Fabriano fino a Roma oltre a tutti gli altri collegamenti su ferro e su gomma per le località delle province di Ancona e di Macerata. Gli orari di partenza saranno dalle 6.40 e dalle 15 da Urbino con arrivi a Roma Termini alle 10.57 e alle 19.50. Il comune di Fano ha emesso un'ordinanza con la quale si vieta il consumo dell'acqua erogata dalla rete idrica comunale nelle zone di San Cesario, Sant'Elia, Ferretto e Magliano. Una misura che si è rivelata necessaria a seguito della comunicazione da parte di Asur in quanto sono stati rilevati trialometani, ovvero prodotti degenerativi del cloro nell'acqua superiori al limite di legge. Per gli abitanti di queste zone è stata predisposta un'autobotte davanti al cimitero di San Cesario da cui rifornirsi. Il comune intanto è al lavoro per risolvere la criticità ma l'ordinanza rimarrà attiva fino ad una nuova ordinanza di revoca. Ed ora una curiosità che arriva dalla spiaggia Sottomonte di Pesa dove è stato posizionato a fianco allo stabilimento I Gelsi il cosiddetto pesce mangia plastica intitolato Il Grido. Si tratta di un'opera dal valore simbolico ed educativo e accessibile anche ai disabili per sensibilizzare al corretto smaltimento dei rifiuti di plastica. E chi invece si sbarazza dell'immondizia in modo tutt'altro che corretto è l'autore di questo scriteriato e clamoroso abbandono di rifiuti che ci è stato segnalato attraverso questi video inviatici da Angela, nostra telespettatrice. Come potete vedere in piena spiaggia a Pesaro è stata abbandonata una porta con tanto di serratura, parte di mobilio di un armadio e altri rifiuti. Il tutto nella spiaggia di Levante fra l'hotel Continental e l'hotel Embassy. A poca distanza, in prossimità della foce del Genica, anche l'abbandono di una bici arrugginita arriva a dire questo malcostume e censurabile disprezzo ecologico. Ringraziamo Angela e vi ricordiamo come sempre il nostro numero dedicato alle segnalazioni Si chiama il nostro cuore per l'Ucraina Arte, Bellezza e Solidarietà, il progetto artistico a sostegno delle popolazioni in guerra che si terrà domenica al GRA di Palazzo Gradari e che ci viene illustrato dalla organizzatrice Francesca Guidi. L'arte solitamente rimanda tantissimi messaggi e sostiene tantissime cause. In questo caso si uniscono due, si fondano due arti, l'arte della fotografia e l'arte del body painting, vuol dire la pittura nel corpo. Come lo faremo? Lo faremo in maniera molto elegante ma precisa e mirata. Abbiamo una testimonial, una testimonial molto importante che è una modella internazionale e giornalista ucraina che si chiama Andriana Mariana Ula. Infatti la primo ospite arriverà sabato sera da Milano. Ci racconterà anche una bellissima testimonianza. Sarà tutta una fusione tra musica con Lady Perbacco e Canto, con le poesie di Gastone Capelloni interpretate da due lettrici d'eccezione, chiamiamole così, Litz Marsigli e Deleonora Rubecchi Mensitieri. Le persone anche che non si avvicinano o non sono vicine all'arte riusciranno a capire quello che noi vogliamo interpretare. Quindi si parte da questa performance, poi andremo a fare dei bellissimi scatti nel parco del San Bartolo, presso la fondazione Oasi Oikos, del presidente e del suo fondatore Claudio Balestri. e lì abbiamo individuato due set fotografici. Perché? Perché uno sarà realizzato in un rudere, l'altro sarà realizzato nel belvedere, proprio per identificare in un qualche modo le brutture della guerra con queste rovine e l'altro invece tutto ciò che è speranza e luce e pace, tutto quello che noi vogliamo in pratica trasmettere. Da questi due scatti verranno selezionati, questi scatti artistici con la modella, non vi svelo quello che sarà comunque il set perché è veramente particolare, è il disegno che io realizzerò sulla testimonial e da questi scatti verranno scelti due scatti che verranno stampati su delle magliette. Le magliette, il ricavato della venti delle magliette attraverso online e attraverso delle mostre fotografiche che stiamo già mettendo in atto, non solo qua nel nostro territorio ma anche fuori perché ci stanno richiedendo, andranno, quindi ricavato delle vendite, andrà ad Unsi, Unione Nazionale Sotto Ufficiali Italiani Sezione di Pesaro, che hanno già all'attivo dei loro progetti sul territorio, quindi come il sostegno con i beni di prima necessità nei due punti di raccolta di Urbino e di Pesaro, quindi andranno a sostenere le famiglie che hanno ospitato questi profughi ucraini. Hanno, come ho detto prima, visto che sono già attivi, un paio di settimane fa, rischiando la pelle, hanno già salvato 104 persone, questo è doveroso dirlo perché si sono attivati con due pullman e quindi per noi è veramente, non lo so, un onore, un orgoglio poter collaborare con tutti. Ed ora ci colleghiamo con gli amici del San Costanzo Show che devono annunciarci una novità davvero molto speciale. Cari telespettatori di Rossini TV, siamo qui per presentarvi la nuova trasmissione che nei prossimi giorni andrà in onda sul canale 80, ma come ve la spieghiamo con la signora Pesaro, a me mi hanno assunto perché devo farla su Brett, ma devo stare tutta nuda, faccio vedere tutto, facciamo molto ascolto, faccio vedere tutto, tutta nuda. Ma che fa vedere? No, se non è questo, ve lo faccio spiegare dalla signora Rosa, come funziona la trasmissione? Viego io, allora, è un gioco, un gioco da fare tutti insieme, ci sono delle pentole con dentro dei piatti di pesce e uno deve essere bravo a riuscire a portare il proprio piatto fino alla fine, insomma, e vince tanti temi. C'è una slot machine, ci sono dei concorrenti che verranno presi tra il pubblico, tra chi mangia il pesce azzurro. Il pesce azzurro quiz show, dal 12 aprile alle 19, tutti i martedì e i giovedì, Rossini TV, vi aspettiamo. Canale 80. Si vincono le patate. No, no, non è vero, si vincono me i premi, vi aspettiamo in allegria, prima di cena, dai. Ci sono le subrette. Venite a partecipare. Dalle 19. E dunque ringraziamo gli amici del San Costanzo Show per questa preziosa informazione e dunque non perdetevi pesce azzurro quiz show dal 12 aprile ogni martedì e giovedì a partire dalle 19 e come avete intuito ci sarà davvero di che divertirsi. E concludiamo ora il nostro notiziario con due notizie di sport che riguardano la palla ovale. Cominciamo dalla palla ovale del rugby perché la Fiorini, Pesaro Rugby, questa domenica non giocherà la partita casalinga contro Civitavecchia prevista al Toti Patrignani. E' arrivata infatti oggi la comunicazione di annullamento del match a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 che bloccano gli avversari. Da regolamento del rugby dunque ci sarà vittoria a tavolino 20-0 per la squadra pesarese. E poi il football americano perché invece domenica ci sarà il debutto casalingo degli Angels in una stagione che sarà all'insegna del rinnovamento tecnico ma anche di solide continuità come quella del sostegno della famiglia Ranocchi. Il servizio. Dopo il debutto con sconfitta di misura Ravenna, il campionato di terza divisione di football americano propone domenica l'esordio casalingo della stagione degli Angels Pesaro. Appuntamento alle 15 al campo a scuola di Via Respighi contro i Dovs Bologna. Campionato 2022 che è stato presentato oggi nella sede del main sponsor Ranocchi Software da 15 anni consecutivi al fianco della squadra e da 16 con Frank Fabri presidente. 16 anni come presidente e come ho detto prima vorrei diventare maggiorene per capire cosa fare da grande quindi di conseguenza sono stracontento di essere ancora qui con la pallovale con gli Angels, con il marchio sempre di Ranocchi e anche gli altri marchi che ci stanno accompagnando da anni, Banca Generali, Aves, GLS, Natana, cose importanti che perché per un movimento come il football americano muovere tante persone e girare l'Italia. Quindi in bocca al lupo agli Angels, mi faccio in bocca al lupo da solo anche perché ne ho bisogno per tutto e domenica, domenica alle ore 15 faremo l'esordio casalingo contro i Dovs, di Bologna, una partita storica che negli anni 80, negli 85 vedevano gli scudetti, gli Super Bowl che giocavano gli Angels sia con i Dovs e con i Warriors sempre di Bologna, al Dallara e quindi una cosa fantastica. Salutato coach Gerbaldi, gli Angels si affidano ad un nuovo staff tecnico con l'americano Jack Campbell che torna a Pesero dopo quasi 30 anni, esperienze in NFL e l'ambizione di ricostruire anche una giovanile pesarese che aggiunga l'infa al movimento. Adesso noi lavoriamo in modo giovenile, noi controlliamo le scuole superiori, le università e cominciamo a lavorare con ragazzi nuovi e cresciuti. Questo per io stai qui perché io ho specializzato in tecnicamente e per le giovani. È un football americano in salsa pesarese che continua ad essere legato a doppio nodo a quella passione tramandata dal compianto Giovanni Ranocchi. Giovanni è sempre qui con noi l'anno scorso per motivi proprio di regolamento della pandemia ancora in pieno corso che è stata fatta all'aperto ma eravamo tutti presenti, io, Stefano, tutta la famiglia, eravamo appunto al campo scuola all'aperto. Quest'anno quando ci vediamo in ufficio ho detto chiaramente sì, nell'ufficio del Babbo e c'è qui con noi. Sto sorridendo io perché poco fa mi ha ricordato Frank che io ho festeggiato un compleanno nei 14 anni, quindi parliamo più di 30 anni fa, con tutta la squadra di football americano. Quindi devo dire che veramente sono una famiglia. Io ho le foto del mio compleanno con la squadra. Ti ricordavo che l'allenatore è una vecchia conoscenza, ci siamo conosciuti 30 anni fa nell'occasione della sua permanenza a Pesaro di allora, è un grande piacere ritrovarlo. Voglio andare anch'io in Serie A, non è uno scherzo, quindi bocca al lupo alla squadra. Faccio anche un appello ai ragazzi che si avvicinano a questo bellissimo sport. È uno sport interessante, è uno sport che ti permette di misurarti al di là, non è uno sport professionistico, però è uno sport di contatto, è uno sport anche di grande rispetto e quindi è un invito. Se potessi, ma io ormai sono fuori tag, giocherei, però magari il prossimo anno non posso recuperare perché mi hanno detto che posso allenarmi e quindi magari cogliamo l'occasione per partecipare anche in più. E con lo sport si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News, ma non si conclude il nostro spazio dedicato all'informazione perché alle 20, come ogni venerdì, è l'ora del Valle Foglia e Pian del Brusco, lo magazine, l'appuntamento fisso settimanale con il magazine di questo territorio condotto da Edoardo Razzi, appuntamento alle 20, prima replica alle 23.15. E poi alle 21.20 la nostra prima serata dedicata al documentario del Cine Club Pandolfi dal titolo Il Panino di Gesù. Una storia che racconta la vicenda di Sara Matteucci, nata nel 78 padiglione di Tavuglia, ammalatasi all'età di 5 anni e poi morta dopo appena 7 anni e mezzo. Una breve vita in cui Sara ha coltivato per un rapporto privilegiato di amicizia con Gesù, Eucaristia e la Madonna. Dopo la sua morte si sono moltiplicate le testimonianze di particolari grazie ricevute anche in Italia, Africa e Argentina. Una storia che dunque potrete vedere in questo documento alle 21.20. Domani sabato 9 aprile invece la giornata di Wipesero TV, il nostro format realizzato in collaborazione con il comune di Pesero, ospite del nostro Antonio Astuti, sarà in questo sabato l'assessore all'innovazione Francesca, Franco e Luci. Appuntamento dunque domani alle 13.30. E poi ve l'abbiamo anticipato nel TG, da non perdere un nostro nuovo format, il Pesce Azzurro Quiz Show con gli amici del San Costanzo Show dal ristorante Pesce Azzurro di Fano. Si comincia il 12 aprile, tutti i martedì e il giovedì alle 19 con repliche alle 22.30 e poi anche repliche il mercoledì e il venerdì fino ad arrivare alla domenica con due puntate di seguito alle ore 21. Dunque non perdetevi dal 12 aprile questa esilarante novità Pesce Azzurro Quiz Show. E poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini, come sempre in diretta e per l'occasione condotta dal nostro Antonio Astuti. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata e anche un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.